Tiberio Timperi, questa sera salirà sul palco di Cortina Incontra per questo appuntamento Non ci resta che amare, a moderare un appuntamento tra scrittori che hanno scritto di amore. Allora, come mai l'amore dopo tanti secoli e nei secoli dei secoli tira ancora così tanto come argomento, non solo per i libri poi? Ma forse perché, vista l'attuale crisi, l'attuale momento di congiuntura economica mondiale, vuoi vedere che forse è un bene rifugio? Non lo so. Cercheremo di capire se effettivamente l'amore può essere un bene rifugio, quanto sia volatile anche, se è più volatile di un bot o di un Madoff dei Parioli. Diciamo che l'amore, assieme all'entusiasmo, sono due colonne fondamentali, portanti nella nostra esistenza. Tra le grandi storie d'amore che sono state raccontate, possiamo partire dai libri ma anche al cinema, secondo lei qual è la più, quella che l'ha rimasta più in mente o che è più legata alla sua storia? Mi viene in mente una storia turbolenta, però che è durata con corsi e ricorsi, quella di Liz Taylor e Richard Burton. E là, non era male. E un'ultima domanda prima che saliate sul palco. No, me ne faccio una penultima. Una penultima? Ok. Un preavviso di ultima domanda. Intanto mi faccio l'ultima, poi si arriva l'ultima. Ok, Cortino incontro, quest'anno festeggia i dieci anni. E noi ci siamo sempre presentati con il late motive, il filo rosso del divieto di urlare, della logica dell'incontro e non dello scontro, anche un po' per differenziarci, innanzitutto perché ci crediamo, ma anche per differenziarci da quelli che spesso sono i dibattiti in televisione. Ecco, lei che ha un'esperienza, insomma, assolutamente in questo settore, che cosa ne pensa? Questa formula può funzionare ancora per il futuro oppure no? Non ho la palla di vetro, però certo è che da una parte credo che Cortina abbia un debito con i Cisnetto, perché comunque, visto che le notizie non vanno in vacanza, uno le trova nelle località di vacanza e continua a mantenere una spina attaccata a quello che succede nel resto del mondo. Molti dei fatti politici poi al fine si consumano qui. Sarebbe interessante, la lancio come proposta, senza che nessuno si offenda, che magari, visto che d'estate, come scrive qualche critico, non sta a me dire se ha torto o ha ragione, i palinsesti delle televisioni vanno in vacanza, sarebbe bello a questo punto vedere Cortina incontra, perché no? Magari una sintesi, magari in forma riveduta e corretta, però sarebbe bello vederlo sulla televisione di Stato. In fin dei conti potrebbe essere divertente. D'estate c'è una joint venture, perché no? Un'ottima proposta, un ottimo augurio, mi permetto di dire. Per mia fortuna non sono un direttore di rete, non sono un dirigente, è semplicemente un'idea tra tante repliche belle, perché a volte sono più belle le repliche di tanti momenti di televisione, forse questo potrebbe, l'undicesimo anno, andare in maniera tale che, come dire, aperti per ferie tutti quanti. Allora le lancio un gioco, una proposta. Questa era la penultima, adesso arriva la penultima. Per il prossimo anno, se dovesse tornare qui a moderare un dibattito. Io saltranno torno in qualità di ospite, perché avrò scritto un libro, e per cui... Ci può anticipare qualcosa? No, è un romanzo. D'amore. D'amore. Chi vorrebbe presentarlo? Bella domanda. Mi faccio la penultima, che intanto ci penso. Così ci iniziamo a lavorare. Ah, è finita qua. È finita. Eh, volevo sapere. No, se c'è in mente una persona per presentare il suo libro. Ma mi piacerebbe... Un amico. In televisione non è che ne abbia molti. Tanto c'è un anno di tempo. Possiamo giocare tra Enrico Mentano e Michele Guardie. E anche la sensibilità di Paolo Mieri. Sono tutti quanti i vostri amici, per cui va bene così. Ci proveremo. Stiamo a vedere. Vado perché... Grazie. Buon incontro.